In trasferta nel girone di ritorno, solito film Pescara recidivo anche sul campo della Torres incassati 4 gol come contro Juventus Under 23, Gubbio e Vis Pesaro. Abbiamo sempre ribadito le lacune strutturali dell'organico, le abbiamo motivate con dovizia di particolari, ma quando non pareggi almeno la carica agonistica dell'avversario, sperare di fare il risultato diventa tremendamente complicato. Peccato perché nel primo tempo pur senza rubare l'occhio il Pescara è apparso ordinato, ha sbloccato il punteggio con Merola, salvo poi farsi raggiungere al crepuscolo della prima frazione. In sintesi il Pescara si è fatto del male da solo e la Torres ne ha approfittato con estremo cinismo. Tre delle quattro reti subite sono state figlie di disattenzioni piuttosto palesi. Difesa distratta, soprattutto passiva nell'atteggiamento, soliti errori, passi indietro significativi. Sul secondo gol, dopo la spizzata di Zecca, Brosco non scivola in copertura sul Ruocco che tutto solo infila Pizzari. Sulla terza rete responsabilità dello stesso capitano, ma anche di Pizzari, una compartecipazione piuttosto evidente. Sul pareggio è stato già detto tutto. In generale ripresa arrendevole, Pescara è sangue, alla prima difficoltà la squadra è completamente sparita dal campo. Perdere così senza un minimo di reazione è inaccettabile. Ma la mancanza di carattere, semmai è una conseguenza, non può essere mai la causa. I concetti basilari della difesa sembrano infatti sconosciuti. I cambi effettuati nella ripresa non hanno aiutato. Ci riferiamo in particolare al play da gasso sostituito e rimesso, in questo caso squizzato, nel breve volgere di otto minuti. Naturalmente ci sono anche gli avversari. La Torres ha chiuso tutti gli spazi, in fase di non possesso la squadra di Alfonso Greco è passata alla 4-4-1-1. Ruocco quarto di centrocampo, Zambataro terzino sinistro, davanti Mastino alle spalle di Scotto. Sardi organizzati, corti, reattivi perché sorretti da un'ottima condizione fisica. E poi il gap evidente anche sotto il profilo della struttura fisica di squadra. E qui torniamo alle criticità della Rosa, e già perché quelle sin dall'inizio ci sono sempre state. Infine uno sguardo ai numeri, otto punti in meno rispetto alle prime dieci giornate di campionato. Nelle ultime cinque, quattro sconfitte, un solo successo, appena tre gol fatti e addirittura quattornici incassati. Martedì alle 20.45, Pescara impegnato sul campo della Re Canatese, terz'ultima in classifica, reduce dal KO di Perugia. Grazie.